Sono dieci le scuole sorvegliate e speciali di Campobasso per le quali l'amministrazione comunale ha disposto l'esecuzione di uno studio specialistico affidato ai tecnici dell'Università del Molise. La decisione è stata assunta dalla Giunta per fare chiarezza sul reale stato degli edifici scolastici della città, sgombrando così il campo da dubbi e timori. La delibera è la numero 217 del 13 ottobre ed elenca i plessi che saranno sottoposti allo studio specialistico sulla sicurezza statica e sismica. Si tratta dell'asilo nido di via Verga, della scuola materna di via Gliezza, quella di via Tiberio San Lorenzo, la scuola elementare Enrico Dovidio di via Roma, la media Francesco Dovidio, la scuola media Montini, la materna di via De Gasperi, la primaria dell'infanzia di via Lopardi, la primaria di Contrada Polese e quella di via Gramsci. Parte dunque una sorta di monitoraggio a tappeto sugli edifici scolastici di competenza del comune con l'obiettivo di stabilire le vite a residuo delle strutture già interessate da interventi di miglioramento sismico e di disporre interventi di adeguamento sismico nel caso in cui si tratti di edifici non interessati da alcun tipo di lavoro. Insomma anche dopo l'ultimo caso, quello di via Leopardi, l'amministrazione Battista ha deciso di correre ripari per evitare polemiche e strumentalizzazioni come ha già detto in passato il sindaco Campobasso è città d'alto rischio sismico e questa non è certo una novità così come non è una novità il fatto che la maggior parte degli istituti scolastici siano a rischio sismico. Nel corso dell'ultimo anno il sindaco ha disposto la chiusura di due scuole, quella di via Crispi e di via D'Amato mentre è ancora da decidere il destino del plesso di via Leopardi per il quale Battista ha preso 45 giorni di tempo per far eseguire le verifiche e adottare i conseguenti provvedimenti in seguito a ciò che ne verrà fuori. Una situazione che sta assumendo le caratteristiche dell'emergenza e c'è chi torna a chiedere all'amministrazione comunale l'acquisto dei moduli prefabbricati all'interno dei quali allestire le aule nel caso in cui altri edifici scolastici dovranno essere chiusi.